Finale Mura Angeli 2 Torriglia 1 Abbiamo qui con noi 10 che è il protagonista della partita che ha fatto i due gol del Mura Angeli mi sembra partita abbastanza tranquilla poi in finale è stato... avete riservato tutto nel perifinale A livello di tecnico è stato forse la nostra migliore partita abbiamo avuto un gran processo a palla e purtroppo è stata la finalizzata Tito! 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 Interrego! Davo Gabi ha segnato 10 gol Tito! 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 Interrego! Davo Gabi ha segnato 10 gol Tito! Nel finale c'è stata quella cosa incredibile del gol loro molto... una cosa molto particolare ci ha fiscato fallo in arietta abbiamo dormito abbiamo messo la Coppa però non ci siamo disuniti l'altra partita abbiamo trovato gol del pareggio sul rigore e poi alla fine abbiamo fatto un ottimo 1-2 io Pagliano e l'abbiamo portato meritatamente a casa Benissimo! Grazie in bocca al lupo! applausi